E' il titolo dell'ultimo libro di Mario Polito, psicologo e psicoterapeuta, da anni uno dei relatori più apprezzati della scuola per genitori promossa da Confartigianato Vicenza, di cui è stato ospite anche recentemente. Incoraggiarsi, egli spiega, significa parlare al nostro cuore, per spingerci a rialzarci, a riprendere con fiducia in noi stessi il cammino, sapere andare oltre le difficoltà. Avvicinato, gli abbiamo chiesto innanzitutto quali sono le paure, le ansie di cui soffrono oggi le nuove generazioni. La paura del futuro, cioè questa è una cosa veramente nuova. Le generazioni del passato, la mia, la sua, quelle dei nostri genitori, la paura del futuro non c'era, c'era la speranza, del futuro. Cioè il futuro era vissuto come speranza, come luogo di miglioramento, ma se tu parli con questi ragazzi, loro dicono ci avete rubato il futuro, non abbiamo futuro. Ulteriore motivo di sconforto, ha spiegato Polito, deriva dalla constatazione che il mondo degli adulti è sempre più insicuro, che la società si è sfilacciata, che c'è sempre più individualismo. Lievitano così il senso di solitudine e la paura. Gli ultimi due, tre decenni presentano delle paure individuali, paure perché è mancata la sensazione della comunità, la voglia di comunità. Ecco, la paura, l'ansia, tante volte è uno stato d'animo che però non ha un perché identificato, ben individuato. Lei dice che bisogna aiutare i giovani ad individuare queste ansie. Certo, perché appena tu conosci la causa del malessere puoi farci qualcosa, ma spesso il malessere, specialmente l'ansia o il malessere è così generico che la persona non sa nemmeno perché sta male, sente solo che sta male, ma se non sa non può trovargli nemmeno l'antidoto. Invece se uno dice sto male perché sto solo, allora vai a cercare un altro. Sto male perché non ho futuro? Bene, impegnati, studia, datti una formazione, una cultura, affronti il futuro. Sto male perché non ho i mezzi per? Bene, collegati con gli altri per trovare e condividere i mezzi. Cioè appena conosci la causa del tuo malessere è più facile. L'educatore, dedicando tempo e pazienza, dovrà quindi aiutare il giovane a leggersi dentro, ad interrogare il proprio cuore. E gli adulti? Anche loro avrebbero bisogno di educarsi al coraggio, soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando qui, siamo nella casa degli imprenditori. Beh, sicuramente ecco, una delle cose che ho sentito dire dai ragazzi un po' dura nei riguardi degli adulti, dici, gli adulti non sono un buon esempio per noi. Perché dici, torni a casa e senti il papà, uff, basta con questo lavoro, che schifo che torna la mamma dal lavoro, non ne posso più. Cioè diamo una percezione che la nostra vita non è una vita soddisfacente, è una vita soltanto piena di difficoltà, di rischi. Invece i grandi genitori, ma anche i grandi imprenditori. Cioè la parola imprenditore è proprio quella, cioè io mi metto in gioco e vado avanti nonostante le difficoltà, però con che cosa? Un progetto, delle strategie. E meglio ancora con delle cordate con gli altri. Si risolvono certi problemi insieme, cioè insieme ce la facciamo. Beh, è una forma comunitaria che gli adulti devono passare.